Il caso della nomina a Banca Italia, poco tempo, forze politiche che tutte si sono schierate? Ritengo che la nomina sia istituzionale e non voglio dare dichiarazioni su questo, perché i capigruppo hanno un ruolo politico, devono essere coloro che ricoprono cariche istituzionali a decidere. Però il leader della Lega, Bossi, non ha fatto mistero della sua preferenza per grilli milanesi o no? Bossi è un ministro, ha una carica istituzionale ben precisa. Senta Presidente, il decreto sviluppo, sono uscite alcune misure, a voi piacciono, non piacciono, sono vere, non sono vere? Tante cose che ho visto sono anche frutto di fantasia. Noi stiamo lavorando delle proposte precise, quello che ci interessa di più è ad esempio trovare un modo per dare sollievo alle donne che hanno figli e che vogliono conciliare l'attività lavorativa. Il nostro paese è indietro rispetto agli altri paesi d'Europa e ora invece che si porti almeno alla pari. Quindi questa misura c'è o no? A questa misura noi la chiederemo, l'abbiamo chiesta, quando avremo il testo sapremo se c'è e se no la voteremo in aula. La politica si esercita molto oggi su un governo di transizione istituzionale a guida schifani? L'unico governo è quello votato dagli elettori e quello che ha avuto il suffragio popolare. La Lega ha sempre detto così, non cambia assolutamente idea. Mi sembra però, quello che leggo sui giornali, mi sembrano davvero delle congetture prive di ogni senso.